Abbiamo notato che le sezioni sottili, alcune però, non tutte, assomigliano ai quadri di alcuni pittori, per esempio Candischi, Miro e Picasso. All'inizio si venevano in bianco e in nero, però quando accendevi i filtri polarizzati si vedeva colorato, per esempio come in questa immagine. Queste sezioni sottili le abbiamo trasformate in pittura a scuola. Abbiamo preso ispirazione della sua faccia a piramide rovesciata, come vedete ha proprio quella forma. Abbiamo fatto anche dei disegni.